E per tutti ragazzi io sono CD17 e oggi ragazzuoli vi do il benvenuti sul nuovo anno di F1 Clash Tutto migliorato, ho detto in giro, bella la nuova schermata Bella la nuova schermata, ho sentito dire in giro che tutti i nuovi piloti di nuova scuderia del 2024 Tutto migliorato, anche la grafica migliorata Speriamo che, ecco, è Clash 2024 e iniziamo la nuova stagione Nuovi piloti esendari, nuovi componenti, prove gomme, proficircuiti, nuovi negozi e campionati costruttori F1 Clash 2024 Altra umilità, nuova interfaccia di gara, sostituzione, affidabilità, radio team rinnovata e molto alto L'avventuale che il compenso in sospeso per cassa, eventi o campionati settimanali sono stati riscossi automaticamente prima del cambio della stagione Ok, continuiamo L'altra relazione, nella scorsa stagione ha trovato un punteggio di 48,29 Ha trovato traguardo nono, premi punteggio stagionale, cassa oro, premio istantaneo per l'attività di 24 225 punti cc da spendere nel campionato costruttori, ottenendo tutti i premi Lì è sempre lei, la team, non so come chiamarla Benvenuto alla stagione 2024, siamo lieti di annunciare dei cambiamenti importanti per tutti i giocatori, legge di novità Ok, la prima è sostituzione, affidabilità Qua per vedere, tipo, Logan Sarajant che si è rotta l'affidabilità Ok, quindi nelle qualifiche Adesso qua non capisco, comunque, la stagione affidabilità viene sostituita dalle qualifiche Ok, consentendo gare più veloci senza barra delle condizioni dell'auto Manutenzione e guasti, quindi non c'è più la statistica affidabilità ma c'è la statistica qualifiche Le prestazioni in qualifica sono ora determinate dalla combinazione delle statistiche qualifiche di pilota dei componenti Profili circuito, Monaco Ora, nei circuiti c'è i loro profili, quindi quali piloti bisogna utilizzare Tipo qua, per vedere difesa e sterzata Monaco è un circuito in cui si è molto difesa e molto sterzata Circuiti caratterizzati da effetti unici sulle statistiche che potenziano una statistica del pilota e una delle componenti In base alle caratteristiche dei circuiti reali Personalizza i tuoi equipaggiamenti per sfruttare le statistiche migliorate e un vantaggio complessivo sul circuito Nuova interfaccia di gara La base della power unit è ora posizionata accanto ai pulsanti della modalità motore La base delle condizioni è l'auto stata rimosso dal pannello del pilota Ok, quindi non c'è più... quindi... ok Ci sta, eh Molto belle queste cose qua Hai 4.5 milioni di monete avanzate la scorsa stagione Le abbiamo configurate in 50 punti cc che potrai spendere nel negozio costruttori Capato costruttori E quindi sì, infatti, vi faccio la tabella monete punti cc Un milione diventa 50, ok, punti cc Sembra che tu abbia già due pilota nella tua sua 20-24 La cassa staranno da Kevin Magnussen ci sta come più pilota E l'organ Sarajan ci sta come più pilota E poi 50.000 coins Ci sta, dai Ed ecco una nuova casa che è il governato da Teguardi e premio del punteggio stagionale Cassaoro Unboxing 16 di Feni De Stabliser 8 di Guanyu Joe Faltri Bottas De Blaze E Nico Hülkenberg Allora Sul negozio Come potete vedere qua C'è sempre Pilota Il punto di domanda posso aprire indicare cosa? Se posso cliccare Se No, non posso cliccare il punto di domanda Vabbè Ah, le casse Le apriamo tutte con voi davanti che ci guardate Coins E autocontrollo e bonus Come volete sono rimasti tutte ugualmente E poi c'è anche questo E poi Bottas Due di Tic Non so come chiamarli Coins 9 di Logan Sargent Due di All'azione posteriore Uno di Bottas Potenzamento E poi sempre Comunque la grafica ogni anno cambia Cioè Ci abitore Ci abiturò Mi ci abiturò Poi quasi sempre La solita personalizzazione auto Questo qui E quello dell'anno scorso Magari era cambio Poi qua Tutti i club Qua tutti i piloti Qua Vedete già Tutti i piloti Già li potenziamo Con calma Con calma Tanto E Bottas Dopo tutti i piloti Potenziamo Per ultimo La tazza Diciamo Il campionato Il campionato CG Tra alziamo Alziamo il Il punteggio Ci siamo 150 Di Semplicissime Di cosa Ok Auto E' un po' E' un po' Tutti i sera Questo qui Potenziamo subito E lo Assegniamo All'auto Qua ancora niente Qua questo qui Potenziamo E lo Mettiamo Nella nostra Auto Assegna Niente Niente E questo qui C'era Lo potenziamo E lo Assegniamo All'auto E in tutto Siamo A 181 Di bonus Siamo All'esibizione Nel numero 38 Come Per esempio Esibizione Ok Abbiamo una cassa Oro E Minuto 50% Dalle case Di tempo Ok Abbiamo un po' 8 di Kevin Magnussen Cassa oro Comunque 3 di motore Potenziamo Tutto 2 di The Blaze 1 di Bottas E nuovo Sospensioni Zenith Beh no Anche la 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 Il colore Il colore che c'è Sulle sospensioni Non c'è Non c'è niente Qua a fondo Ecco Sospensioni qua Nuovo Aggiungiamo E poi con Che posso potenziarlo Il punteggio team Si alza Di conseguenza Adesso Giusto 200 Infatti Un po' Questi sono Questi Ecco E' iniziatta la stagione 2024 Guarda il trailer E' iniziatta la stagione 2024 Guarda il trailer Ovunque ti porti La sfida Qualunque cosa Le chieda Chiunque si metta Alla stagione Aspetta Te decidere Quello che è un trailer Siamo ragazzi Guardiamolo Magari Adesso ragazzi Non girate il telefono Ma Perché devo girarlo io Quindi voi Guardetelo in orizzontale Perché non posso Soltarlo Non posso Soltarlo Soltarlo Adesso Alla stagione D'accordo Soltarlo E' iniziatta ci sta ragazzi bella 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 vabbè niente allora che facciamo ragazzi punto cc punto cc allora qua c'è un po' di ansa la serie 12 se posso comprare qualcosa allora della serie 12 non posso comprare né i più ottimi componenti ragazzi perché sono tutti superiori della serie 11 non posso comprare niente della serie 10 posso comprare qualcosa ma solo componenti poi c'è un po' di componenti non posso comprare che sono più forti quindi passiamo alla serie 9 serie 8 mamma mia è un po' serie perché mi piace comprare un pilota e un componente un pilota e componenti come la scostazione quindi un pilota prenderei Mark Verstappen e poi della serie 1 posso comprarmi i componenti allora ragazzi mi compro Mark Verstappen 20.cc vediamo un po' se c'è un componente da spagare almeno in 20.cc ragazzi è meglio i piloti forti che quelli deboli ragazzi eh direte ma che schifo che fai no cioè sì lo so però almeno un poeta forte lo vorrei un pilota magari un componente che costi 20 in serie 1 25 5 allora 5 di questo 5 di questo così andiamo a 0 e siamo a posto quindi usciamo ok ci sta ci sta andiamo qua su piloti e abbiamo Verstappen che sicuramente lo mettiamo al posto numero 1 sempre lui solo lui no ma sono stupido sono stupido sì ah l'auto 2 quindi questo qui 9 2 5 4 10 6 ok non penso ok quindi l'auto siamo a posto che è prima che il secondo pilota di questo qui assegnare l'auto reblaze ok questo qui potenziamolo e assegnare l'auto a posto ragazzi telecamera è spenta e noi ci ricost... risultiamo subito ragazzi tramite di pubblicità gratuite ho ricevuto questa cassa gratis un po' l'unboxing insieme a cosa ci capita coins autocontrollo cambio e volte le bottas adesso andiamo qua subito a vedere se c'è qualche periodo da potenziare ma non ne vedo era solo questo infatti 3,5,9 ci alza ancora di più anche per i bonus 3 cammina è spenta guarda i video e noi ci ricostiamo subito ok ragazzi ho 3 autocontrollo adesso possiamo andare a fare la corsa ah ecco i giri che non c'è sono cambiati comunque o meglio sono quanti questi i primi soldi eh della prima serie ok poi vedi che c'è un prex in nessun momento disponibile all'aumento di duelli sì duelli nel senso che di cui questo circuito queste sono le tecniche del circuito di Australia quella di Ungheria uno circuito ha due statistiche forti e tratta di una statistica del componente di una della statistica del pilota che hanno un forte in quattro di gara tutti i circuiti di una serie hanno una statistica forte che è la difesa stessa in questa serie è difesa per questo per ottenere i migliori risultati focalizzate il compaggimento su statistiche forti Averbon ha difesa e power unit il compaggimento in gria ha difesa e sterzata il gran premio d'Ausia a Spielberg sul Red Bull Ring presente difesa e velocità infine il gran premio di cosa MediNite di Edebrei Romagna giusto a Imola difesa e power unit quindi se torno indietro io i pivoti ho Mark Stappen che presenta pilota allora ha difesa vabbè dai vediamo un po' come va con qualcosa per magari chi mi capita poi vedete c'è 17 punigio team 377 anche lui è primo nel senso che anche lui è gioca per la prima volta non ha ottenuto niente quindi a parte che se si perde non si perde nessuna coppa quindi è proprio come allenamento iniziamo iniziamo con secondo quarto diecesimo e quindicesimo possiamo iniziare con cinque giri a Spielberg erano dieci in passato siamo tutti con un autocontrollo per iniziare con calma a un autocontrollo a un autocontrollo ah vedete ragazzi qua c'è il tir radio sotto vedete c'è una tabacca sempre tutto siamo un po classifica c'è perez quinto urkenberg 16esimo con fatica per definita che mi piace più quella per definita dentro dai dai entra 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 bravo bravo ulkenberg bravo ulkenberg bravo anche suo con bravissimi 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 in questo senso i pistops dovrebbero essere veloci perché c'è solo la statistica delle gomme come vedete che invece in passato c'era anche la statistica comunque ci sta bella questa gara sono felice di aver vinto la prima gara con voi non è grazie non è grazie bonus o meglio in parte è grazie bonus in parte bravo comunque via ulkenberg ci sta e ci sta comunque mi piace questa prima gara adesso non so se i giri sono sempre tutti 5 oppure no però cioè due vittor due bandiere ottenute e poi oppure ok ricompense ok ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto ragazzi mi raccomando lasciate un bel mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale attivate la campanellina seguitemi su instagram che ho c'è la cd 16 tra basso yt official iscrivetevi al mio canale whatsapp link presente nella community di youtube e noi ragazzi un buon giorno è il vostro cd 17 è tutto bella ragazzoli ciao ciao